Inizia bene il Cesena da Lucchi a Oddo che supera Giovannelli e dà a Schackner due rimpalli, poi Tacconi risbatte due volte e finalmente, di somma, dopo che è stata frenata la palla, allontana il pericolo. Al ventiquattresimo il primo gol, conizione di Chimenti, irrompe Juarì che non perdona e che poi si abbandona alla solita circoluzione intorno alla bandierina. Ancora un'azione avellinese, lancio dalle retrovie per Piga che scavalca Storgato, il quale gli si fa ancora addosso ma a sventare il pericolo è Recchi che abbranca in due tempi. Ripresa, ci sono prima due interventi di testa di difensori Romagnoli, poi Giovannelli manda verso Chimenti, sinistro volante che Recchi respinge e Nei appoggia poi al proprio portiere. A conclusione, ecco ancora il secondo gol bianco-verde, un attimo, Tagliaferri a Chimenti, angolatissimo, raso terra, destro e gol. Al trentanovesimo traversa per il Cesena, Ferrante su calcio piazzato, il verso di esterno in mezza spaccata, manda Pimoc contro la traversa e poi la palla va fuori. Grazie a tutti.